Ben tornati ragazzi qua sui due terzi Siamo tornati su un gioco Incredibile Siamo tornati su Black Ops 3 Ma perché? Perché ogni tanto Non sai cosa registrare Outlast, ho fatto due episodi Tra l'altro in fila Uno all'altro, speravo di Creare un attimo un intervallo, quindi ho deciso Di portare un altro gioco, ma quale? Quale? Avevo voglia di giocare a Black Ops, giochiamo a Black Ops Eeeh Avevo appena fatto il prestigio Stavo facendo Le sfide con Black Hat Sì Sono da fare con Invisibile Geniere Ok Eeeh Noi andiamo su 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 su, ma andiamo sul classico Un bel deathmatch a squadra così non ce lo leva Nessuno, nel frattempo io sono andato Prima a prendere Ponna, che rumore che fa Ste robe da mangiare, sono tipo riso Soffiato Penso, un pochino piccante Stiamo pure vincendo Non posso dire che il sapore è buono Ma non posso neanche dire che fa schifo dopo tutto Oh madonna, è vero che io non so perché la prima partita mi lagga Weeeh, andiamo Chi c'è qua? Ma perché mi fa Perché mi lagga così ogni tanto la prima partita? La prima partita solo Anzi, a dire il vero Prima Una volta era la seconda La seconda la gava La seconda partita la gava Invece adesso Ups Non sapevo di avere la semtex Pensavo di avere il c4 Esattamente 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 No Io volevo andare A uccidere l'altro Che palle Nooo Il purify Mi son trovato Il purify Ma come sta andando? 5-2 Beh, non male Soprattutto per un deathmatch a squadra In cui l'unica cosa importante è avere il dato positivo Questo l'ho mancato in pieno Wow Con l'esplosione della macchina XMC È fortissimo Ritorniamoci però Il nostro XM53 Non si sa mai Secondo me sono i nati di qua E invece no E andiamo No, no, no È vero però Stiamo stravincendo Uè, uè, uè Stavo cadendo lì sotto Chi è che mi sta Da dietro Schifo Vabbè Sa un po' tipo di gas Dopo che l'hai mandato giù Diciamo Non per avere il massimo Della bontà Ho perso il telefono Ma l'ho messo qui Ho scritto ad Arpens Due minuti fa È vero che Deathmatch Io sono sempre abituato A giocare in dominio Quindi Uè Quello lì voleva Eh, le granate non si possono usare All'inizio del round Che schifosi Ancora un po' mi faceva morire Per questa Schifo di regola No, no, no Levati Levati E mi si piazza davanti Questo Ua, via ostile Sì, sì, sì Lo devo proprio violare Che schifo Che ti metti dietro la macchina Uno cinque Ah, beh Con noi sono entrati due Che giocano sullo stesso Compiute No Voleva farmi un quick Questo Ma non ce la fa Vabbè Tripla Va bene Chi c'è qui No Torna dentro È animale Io devo Ah Devo modificare Come si dice Violare Sì E uno ce l'abbiamo fatta L'altro No Se ne stava andando Stiamo perdendo Due tredici Due tredici Dai Quei pugni Ua No E morì Ehe Volevi Questo Mi volevo uccidere Col C4 Ma scherzi Animale Schifoso Uh Quanti sono No Ma come Me li ha uccisi Entrambi Me li ha rubati Tutti No 21 10 però Molto bene 5 21 Ma come fai Un potere punte Secondo me No Ma lui mi stava uccidendo Mi era finita una bricciola Di quella specie di riso soffiato Sotto il dito No Sì Uè No Ah No È l'XMC Eh grazie Stana qua È la più forte del mondo 9-1 Fa l'Aversac Adesso vado a riprenderlo Uh Ma là c'è uno L'ho visto Mi ha mancato Dai Uè Headshot KN Dammelo qui Vabbè dai Usiamolo su di lui E basta Dai Eh Quale fa 22 5 Ciao Non lo riprendo più Nuoto Esco in casa loro Lì c'è uno camperato Quanto pare Ucciso C'era un altro Quanto pare Sto giocando Al tiro con l'arco Dammi qui Uè C'era però Uh Quale lì è in acqua Spiacente Ma avevi LV8 Basilisk Se non sbaglio Ah sì Ce l'ho anch'io Ce l'ho anch'io Si può fare anche sott'acqua Non ci credo E mi ha dato la medaglia Come se avessi usato Un esplosivo sott'acqua Ma stiamo scherzando Uè Ma perché Ma ma l'uccidevo L'uccidevo No Sto cosa che non pensavo Si sbloccasse così Cioè che non pensavo Si potesse sbloccare Doh che schifo Ogni volta che li mangio Mi Blah Non pensavo si potesse sbloccare Anche con lo schianto gravitazionale Vabbè non l'ho trovato Però ci sono passato su Vabbè Noi quindi possiamo dire Che ci salutiamo qui Ci vediamo la prossima volta Sempre qua sui terzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi